Parliamo della donna alfa, la donna alfa che seduce. Anche tu che sei una malgasciona potresti diventare una donna alfa, una femmina alfa e sedurre. Perché la cosa interessante è che non esistono soltanto i maschi alfa, ma esistono anche le femmine alfa. Quindi impara a diventare una femmina alfa, impara a diventare una donna alfa se vuoi conquistare l'uomo della tua vita. Perché? Teniamo presente che poi l'uomo della tua vita non è detto che sia un altro maschio alfa. E questo ti suggerisco di non lasciarti, come dire, inchiappettare dal fatto di ricercare a tutti i costi un maschio alfa. Perché se vai a cercare un maschio alfa, il maschio alfa qual è? Beh, il maschio alfa è quello che normalmente all'interno di un gruppo, perché tutto va relegato a un gruppo, il maschio alfa di solito è quello leader, è quello, ma non è detto che sia più bello, ma è quello con più fascino, con più capacità di seduzione. Ma proprio perché un maschio alfa tendenzialmente è anche libertino, è anche un segno che spesso, che non è fedele, diciamo. Non abbiamo mai visto un maschio alfa fedele. E quindi se tu sei una femmina alfa, cioè una donna un po' dominante, una donna che ha delle caratteristiche di un certo tipo, devi imparare a, come possiamo dire, seguire, a non focalizzarti su un altro maschio, sulla ricerca di un maschio alfa. È meglio che vai a cercarti un maschio beta, perché il maschio beta ti darà più garanzie. Questo se chi vuole per le donne, che siano femmine alfa, soprattutto le femmine alfa, che le femmine alfa sono quelle che piacciono un po' di più. Ma se tu vuoi mettere su famiglia, vuoi creare la famiglia del mulino bianco, non devi scelti un altro maschio alfa, cioè un altro alfa come te, perché un altro alfa, praticamente, cosa farà? Non ti darà nessuna garanzia, di fatto, perché ti riempirà di corna, anche se sei tu alfa. Insomma, sarà una relazione comunque pesante. Ti conviene scelti un beta, un uomo tranquillo, un uomo, diciamo, medio. Ecco, un uomo medio, un medio man. Per te, per creare una relazione familiare, scelti un uomo medio, uno un po' noioso, uno che non abbia tante donne che gli vanno dietro, perché altrimenti, altrimenti, se ti trovi il maschio alfa dominante, il maschio alfa attira tante donne. E quindi tu devi scelti un beta, un uomo che è un gregario. Diciamo che la definizione di beta è un maschio gregario, uno che non è leader all'interno del gruppo, ma che è gregario, uno che non ha un alto profilo, ma che tende ad avere un basso profilo, uno che non ha un grande fascino, ma che comunque è una persona piacevole. Insomma, non è il top, ma il medio man. Questo è il suggerimento che do a tutte le donne, soprattutto quelle alfa, perché le donne beta, perché le donne beta sono avvantaggiate, diciamo, rispetto alle alfa, nella scelta degli uomini? Per un motivo molto semplice, che le donne beta, quelle un po' più bruttine, quelle, quelle, diciamo, che non sono al top, insomma, le donne medie, quelle, le donne medie, donne beta, che non è che piacciono tanto, insomma, che non, cioè, piacciono, ma non sono. Queste si scelgono direttamente come target altre donne beta, altri uomini beta, e quindi sono relazioni che funzionano, che funzionano tantissimo. E questo è il concetto, no? Perché le persone che non sono tanto attraenti, che non attraggono, diciamo, tantissimo, e quindi hanno meno possibilità di scelta, se si accoppiano tra loro, si creano delle coppie che vanno avanti nei secoli. Ma vedete, ad esempio, quando ci sono due coppie, anche solo fisicamente, tanto per chiedere un esempio visivo, quando ci sono due cesse, diciamo, due cessi, una coppia, uomo e donna, cesso con cessa, che si mettono assieme, queste coppie qua durano in eterno, non finiscono mai. Quindi, adesso parliamo della donna alfa. La donna alfa seduce, però deve, diciamo, attrarre, deve cercare uomini beta. La donna alfa chi è? Beh, è una donna che ha sicuramente, non c'entra la bellezza, quindi voglio smontare questo presupposto che la bellezza non c'entra niente con l'essere alfa. Ovviamente, neanche la bruttezza, cioè, non è che la donna alfa è il mostro di Loch Ness, ma oggi, diciamo, che bene o male, tutte le donne, tutte le donne, diciamo, possono avere una piacevolezza. È ovvio che, se mangi, come dire, a dismisura, ti sbaffi, dolci, lasagne e cose, e ingrassi come una zampogna, è ovvio che poi, come dire, non si potrà essere in forma fisicamente, ma oggi tutte le donne che mangiano sano, fanno una dieta sana, vanno in palestra, fanno attività fisica, camminano, possono essere fisicamente in forma, cioè, quindi devi cercare di essere, di essere fisicamente in forma, te lo suggerisco, perché è un grande vantaggio, questo, essere in forma, anche proprio per te stessa, non tanto per gli altri. Quindi la donna alfa è sicuramente una donna in forma, è una donna che ha una cultura, quindi la cultura è fondamentale, è una donna che ha intelligenza sociale. La donna alfa, vi svelo, che è una donna che ha intelligenza sociale. Cosa vuol dire avere intelligenza sociale? Vuol dire che sa comunicare, comunicare non soltanto a livello verbale, ma sa comunicare soprattutto a livello analogico, soprattutto a livello non verbale. Quindi ha una camminata molto sensuale, molto seducente, sa essere femminile nel modo giusto, senza apparire una zoccolona da corsa, sa dialogare, sa gestire il linguaggio non verbale, sa utilizzare la fascinazione ipnotica, cioè ti guarda negli occhi, sa fare come fanno un po' i serpenti quando ipnotizzano la preda. Avete visto il cobra che si ferma, tac, e paralizza il topolino praticamente. E poi con uno scatto serpentino, diciamo così, sopra di effelino, ma è stato di un serpente, colpisce a fondo la vittima. Questo è quello che fa anche una donna alfa, ha queste capacità, quindi sa camminare, sta a stare seduta, sta a vestirsi elegantemente, sa dialogare, sa ipnotizzare con lo sguardo, con il fascino, sa avere una buona gestualità, una buona mimica, sa essere sempre allegra, non è lamentosa, lamentosa, donna lamentosa, donna noiosa, la donna alfa è sempre ottimista, vede le soluzioni ai problemi, non come certe donne che vedono i problemi nelle soluzioni. Non fa la malgacozza, cioè non ha, non si appiccica agli uomini, non si appiccica agli uomini, ha un sacco di interessi, ricopre sempre il ruolo del topo che fugge, ma è il ruolo del gatto che rincorre. Ecco, queste sono le caratteristiche della femmina alfa. Se tu vuoi diventare una femmina alfa, devi imparare tutte queste caratteristiche che sono comportamentali, non sono iscritte nel DNA, ma, diciamo, puoi utilizzarle, diciamo, come skills per essere percepita come femmina alfa e quindi attrarre tanti uomini, sedurre tanti uomini. Nel frattempo, ovviamente, iscriviti al mio canale e attiva la campanella così riceverai la notifica di tutti i video.